Sono 230 i migranti di varie nazionalità tratti in salvo nel giro di poche ore nell'ambito di tre operazioni di soccorso in mare compiute dalla Guardia Costiera di Roccella Ionica a diverse miglia di distanza dalla costa della Calabria. Tra i profughi condotti in sicurezza nel porto della Locrida in prevalenza afghani, iracheni e siriani anche una cinquantina di donne di cui un'incinta, un neonato e diversi bambini. Prima di giungere nel porto di Roccella i migranti si trovavano a bordo di tre piccole imbarcazioni partite dalla Turchia intercettate dalla Guardia Costiera a diverse miglia di distanza dalla costa. Dopo lo sbarco i migranti su disposizione della prefettura di Reggio Calabria sono stati trasferiti in strutture pubbliche di prima accoglienza messe a disposizione da alcuni comuni del comprensorio della Locride. Tra mercoledì e sabato scorso a Roccella Ionica erano giunti altri 261 migranti. Con questi ultimi tre sbarchi è salito a 57 il numero degli arrivi nel solo porto della cittadina costiera dall'inizio dell'anno per un totale di quasi 9.000 migranti.